Ciao Diana, ciao sorella! Ciao Diana! Lei è Meg, che è il tuo visto nei nostri video. E sono quella che dice minchia! E niente, questo video è per te perché ti stiamo simpatica. Abbiamo un botto di fan in giro. Non è vero, solamente due. Oh, due, si inizia da due. Stiamo in maniche corte in marzo. È bellissima, tu no. Con il sole. Lei sicuramente ci saranno più grandissime. Cioè, oggi c'è sole, guarda qua, con il mare, va. Tutto bello. Siamo vicino al mare, però tu non lo vedi perché... È messo dal proprio dietro di te. Esatto. Siamo nel suo paese, perché solitamente riprendiamo noi mio e basta. Stavolta abbiamo fatto un cambio di scena. Sì, che è più bello. Noi siamo troppo ripetitive. Esatto, abbiamo bisogno di tanti nuovi sfondi. E anche la gente che passa di qui pensa che noi siamo pazzi perché parliamo della macchina fotografica. Sì, perché prendiamo da sfondi. Troppo triste. Tipo oggi che parlavo al cellulare con le cuffie, le persone che passavano mi guardavano storte. Però che cazzo stavo parlando con le cuffie, non si capisce. La gente parla con le cuffie, no? Non attraverso. No, 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 con. Ehi. Ciao. Vabbè. Ciao signora Guffia. E niente, siamo qui, ci siamo presi un buon caffè, la prima volta in quel bar, non era male. Una sigaretta Centus che era gigante. Così proprio. Sì, una Centus bellissima. Se tu voli quella macchina fotografica, non so che cazzo. Se lei inizia a volare o se la macchina... Se la macchina inizia a volare, adesso che c'è vento, capisci? Sì, ma è bellissimo pure questo. E niente, che cos'altro dobbiamo dire alla nostra amica? Come ha detto che si chiama? E niente. Diana. O Diana. Io ogni tanto mi pare di chiamarla Dia. Ti chiamiamo Di. Ehi Di. Tipo JD. Minchia. Minchia. E niente, siamo qui. Abbiamo parlato così tanto che non sappiamo più che cosa dire. Abbiamo esaurito tutti i discorsi possibili. E tra poco anche la batteria alla macchina fotografica. Sì, e soprattutto lo spazio. La memoria, infatti. E quindi niente, ti ringraziamo in generale e basta. Ok. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.